Io l'anno scorso sono stato a Las Vegas con Fedez e Luis e durante quel periodo si era creato ovviamente tantissimo hype intorno sia al Blackjack che alla mia figura. Io avrei potuto sfruttare quell'evento, quel periodo per fare un sacco di cose borderline, cioè in quel periodo a me arrivava, siccome avevo fatto anche io un sacco di contenuti sul Blackjack, molti dei quali erano arrivati virali, ricevevo richieste di sponsorizzazione da parte di casino online e simili, praticamente ogni giorno, ma robe che potevo tranquillamente chiudere contratti da 5 cifre o più. Ovviamente non ci ho mai neanche minimamente pensato, così come in quel periodo avrei potuto fare un corso su come fare soldi con il Blackjack, non sarebbe stato uno scam, però avrei potuto mettere alcune cose borderline, eccetera, le due cose uniti insieme io in quei due mesi avrei potuto tranquillamente fare secondo me anche più di 100.000 euro con queste due cose, in aggiunta al resto, e ovviamente non ci ho mai neanche minimamente pensato, ho fatto la guida sul Blackjack, l'ho data gratuitamente, poi ci ho fatto i leads, 10.000 leads, però ecco questo è un altro esempio sul sfruttare la mia immagine e una situazione particolare, rinunciando a un po' di etica per fare un sacco di soldi. Ma è davvero possibile vincere al Blackjack contando le carte, con le tue tecniche? Cioè, ti riesci ad avere un vantaggio statistico? Esattamente, sì, perché c'è un metodo preciso che se segui ti dà un vantaggio statistico sul banco. Attenzione, è un vantaggio molto piccolo, parliamo di pochi punti percentuali, il che significa che funziona solo se è applicato perfettamente sul lungo termine, perché tu puoi anche giocare perfettamente, ma perdere. Perdere anche tanto se parliamo di qualche ora di gioco o qualche giorno, perché c'è la varianza, questo è il termine statistico, il termine colloquiale è fortuna o sfortuna, cioè tu facendo le cose perfettamente puoi perdere o vincere. Questa varianza nel lungo termine si appiattisce, quindi ti dà sempre di più garanzia che il cosiddetto actual value, quindi quello che effettivamente tu stai vincendo o perdendo, si avvicinerà sempre di più all'expected value, quindi il valore teorico statistico, per cui è un metodo che funziona se uno lo applica in maniera perfetta, seguendo tutti i vari dettagli, con un casino che lo permette, perché un sacco di casino non lo permettono. Alla Sveglas tanti sono banditi per questi motivi qua. Ti sei mai stato bandito da un casino? Allora, cacciato sì, bandito no. Bandito significa proprio che non ci puoi più tornare. Scusami, ma sono un poco ferrato in giochi di carte, questa roba qui, ma come fanno a accorgersene se te fai tutto a mente? Perché vedono il modo in cui giochi, cioè il modo in cui gioca un contatore, segue degli schemi, segue determinate mosse. Ah, conoscono loro alla base questione. Fai delle cose che non hanno senso, tipo magari ti viene... Sai quando non devi stare, chiami carta quando non la devi chiamare. In alcuni casi, ma è soprattutto il modo in cui tu segui la strategia perfetta e fai le puntate, perché il contatore di base punta sempre il minimo del tavolo, e poi all'improvviso magari punta 300, 400, 500 dollari. Ah, se perdi punti. Che il mazzo comincia a essere caldo. Esatto, esattamente. Quindi questo meccanismo non è quello di un giocatore d'azzardo tipico. Ovviamente non è che ci mettono un minuto a capirlo, però nel giro di, non so, 10, 15, 20 minuti, cominciano ad unirsi tutti i puntini, loro hanno il sospetto e ti cacciano, senza bisogno di prove concrete, perché è un luogo privato e in quanto tale loro possono decidere di non offrirti quel servizio. E quando sei stato cacciato, da dove eri intanto? A Las Vegas, non ti so dire il che no. Ma sempre quella volta? Sempre quella volta, sì, sempre quella volta. È stato molto divertente, sì. Eh, ci racconti qualche aneddoto di quell'esperienza? Allora, lì ecco, si è verificato tra le altre cose, e quello che dicevo prima della varianza, cioè noi abbiamo giocato per, alla fine, poche ore complessivamente, perché siamo stati lì pochi giorni, e quindi siamo anche stati sfortunati, e complessivamente noi abbiamo perso, nonostante appunto io abbia studiato tanto per applicare il metodo in maniera, diciamo, perfettamente, esatto, esatto. Ma quanto giocavate, per esempio, per avere un'idea? Parli di tempo? A livello di puntate? Eh, a livello di puntate non posso dirlo, perché anche loro lo hanno, diciamo, oscurato dal video, quindi, però erano, anche là, cioè, Ma si parla di quattro cifre? No, no, no. E poi, insomma, come, volevo sapere qualche aneddoto, se avevi da raccontare riguardo quelle... Allora, a noi ci hanno cacciato solo da un casino, io pensavo molti di più. Poi eravate anche il campione mondiale di poker. Di poker, esatto, sì, eravamo più che altro, lui che si chiama Dario, insieme a Luis, a giocare a poker, e soprattutto io e Fede a giocare a Blackjack, e ci hanno cacciato solo da un casino. La mia ipotesi è che non eravamo lo stereotipo del contatore di carte, cioè, si vedeva che Fede non era un contatore di carte, ovviamente, un, insomma, l'orologio, il Patek Philippe con i diamanti, si vede, cioè, il contatore di carte non corrispondeva come noi sembravamo, e quindi, secondo me, questo ha fatto più pensare... Esatto, ha fatto più pensare alla sicurezza, che eravamo semplicemente due big fish, quindi gente da cui poter prendere tanti soldi invece che contatori, perché comunque io il metodo lo seguivo perfettamente, e in molti casino dove non ci hanno cacciato ci osservavano malissimo, però alla fine non ci cacciavano, perché evidentemente dalla sicurezza gli dicevano, guardate che quei due, insomma, osservateli bene, però poi, queste sono ipotesi, non corrispondevamo all'identikit, e quindi siamo stati cacciati solo da un casino, però in tanti casino ci guardavano, cioè, ci fissavano da molto vicino, e vedevamo che si parlavano all'orecchio, e cose del genere. Ti batte il cuore quando sei in una situazione del genere. Però mi diverto tanto, sì, cioè non ero in realtà ansioso, ero molto divertito dalla situazione, sì. Fai a Dezze e Luis che i personaggi sono fuori dalle camere, sono così come si vedono? Ah, io mi sono trovato molto bene. Sì, sono personaggi simpatici.